Ok ragazzi, buongiorno, buonasera, io sono Sanx e in questo canale parleremo di due cose importantissime gestione finanziaria e gestione emotiva le due macro componenti che rendono noi chi siamo realmente e quello che poi andremo ad essere nel nostro futuro gestione emotiva che significa? la nostra sfera di influenza spirituale a grandi linee come potrebbe essere le nostre abitudini, il nostro mindset e il nostro modo di vedere le cose andremo a parlare tanto da questo punto di vista e a livello di gestione finanziaria invece andremo a toccare tanti argomenti diversi perché oggigiorno ci sono molte opportunità a livello su internet o comunque sia, tante opportunità che non ci obbligano per forza a essere un dipendente, a lavorare per qualcuno perché ricordate ogni volta che siete un dipendente voi scambiate le vostre ore per il reddito passivo di qualcun altro io sono stato dipendente, non c'è nulla di male ad essere dipendenti è una scelta ma viviamo nel mondo delle opportunità se io oggi decido di vivermi il mondo di girare, viaggiare e avere comunque delle entrate economiche ci sono le possibilità c'è il modo, ci sono le opportunità qui tratteremo criptovalute tratteremo trading e tratteremo vari modi e metodi per guadagnare soldi online e questo infatti sarà il tema principale della prima puntata di tutto ciò però avete ancora capito dove pubblicherò questo video se sarà YouTube, se sarà Twitch se sarà tutti e due o anche molte altre parti ma qui tratteremo quindi queste due grandi sfere di influenza la sfere di influenza del personale mindset e la sfere di influenza economica quindi come crearci delle entrate senza essere correlati e legati ad un posto fisico o con qualcuno che ci dice no questo non puoi farlo perché in quell'orario devi lavorare per me ok? se a voi non stanno bene queste cose vi piace, vi casa il tipo di materia che andremo a trattare iscrivetevi perché noi vedremo davvero delle belle ragazzoni ci vediamo al prossimo video